Eccoci, eccoci amici cari, nuovamente di domenica perché abbiamo talmente tante cose da dirci che ci servirebbero almeno tre o quattro dirette giornaliere. Abbiamo visto che il Presidente del Consiglio a reti unificate ha raccontato non solo il nuovo decreto, ma ha raccontato anche fatti personali utilizzando le reti delle televisioni per far sapere che la sua fidanzata non era andata in macchina, non aveva scorta e altre cose del genere. Allora, nuovo decreto del nuovo decreto di 308 pagine che ovviamente in teoria tutti quanti poliziotti, vigili urbani, carabinieri e altro dovrebbero leggersi per poi poterci applicare le sanzioni, tutti questi personaggi che poi sono addetti, poverini, perché poi una cosa è espletare il proprio dovere inerente alle norme, una cosa è leggersi ogni 10-15 giorni 300-400 pagine di norme che devono attuare. Poi qualcuno ci spiegherà come possono erudirsi in materia se ogni 15 giorni esiste un nuovo decreto legge. In questo caso abbiamo avuto decreto legge e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Decreto legge per un totale di 308 pagine. ne parleremo domani, ma vi voglio dire, ne parleremo domani sia perché queste norme vanno lette con attenzione. Non fidatevi di chi scrive le prime cose, si fa questo, una legge, una norma va letta con attenzione. E vi dirò una cosa, poi ne parleremo domani, che queste nuove leggi e norme, decreto legge, legge, norma, DPCM, si sono dimenticati di scrivere le sanzioni. Per cui, per tutti i divieti che ci hanno applicato, non esiste nessuna sanzione. Sappiatelo. Allora che significa? Significa che, ve lo dico già perché conoscendo ormai come funzionano, scrivono le leggi le norme, si scordano le cose e le sbagliano, dopo quattro giorni riscrivono un'altra legge. Quindi sappiate che molto probabilmente, ecco perché è inutile anticipare troppo, sappiate che quasi sicuramente fra qualche giorno emetteranno un nuovo DPCM per sanare gli errori di questo decreto che non contiene le sanzioni. A oggi la legge e le norme che regolano i famosi giorni di Natale non contengono nessuna sanzione. Bisogna leggerle le leggi, non basta leggere solo i titoli, bisogna leggerle, studiarle. È un lavoro che noi facciamo per i cittadini italiani. Altri mettono titoli, titoletto e hanno finito il loro lavoro. Allora, cosa succede? Guardate, stasera faremo anche una piccola, piccolissima di pochi minuti, anzi pochi secondi, riflessione di psicologia sociale. Arriva il Presidente del Consiglio, in passato, fa la sua bellissima diretta, diretta Facebook, rete unificata eccetera, da dopodomani chiuderemo tutte le frontiere, l'Italia sarà, ricordate, l'Italia sarà barricata tutti dietro in casa, chiusi in casa. successe che 400.000, 300-400.000 residenti nel nord Italia scapparono e tornarono nel sud Italia. Ricordiamoci che nonostante eravamo tutti contagiati, secondo le fonti ministeriali, nessuno si infettò al sud per questo immenso esodo. Adesso, gli stessi furbi di quella volta, che cosa stanno dicendo? Dal giorno, dal giorno 16, tutto bloccato, tutti quanti in casa, tutti, non si può uscire, secondo le case, eccetera. Cosa sta succedendo? Vediamo insieme. Ecco qui, questa è la brillantezza di chi ci gestisce. Ecco qui. I volieri vanno a ruba, in poche ore il costo è triplicato, picco di prenotazione per il 19 e 20 dicembre, dal 21 non ci si può più spostare tra regioni. Ecco a quello, a cosa servono le interviste pubblicitarie di chi ci governa. Allora, guardate, ci dobbiamo dare una spiegazione. Noi siamo persone logiche, io sono un giurista, voi siete persone logiche, che tutte le sere dialogate, dialoghiamo, ci arricchiamo, non solo di notizie, ma anche di logica. Perché? Dove non può la cultura, ho sempre insegnato i miei figli, dove non può la cultura può certamente la logica. Ci è stata data la logica, l'intelletto dal Signore, poi qualcuno non lo chiamerà Signore, lo chiamerà in qualche altro modo, ma utilizziamola. Allora, innanzitutto, ma è tutto il mondo che a Natale, a Capodanno, tutte le feste bisognerà stare chiusi in casa, senza vedere i parenti, non si può girare, non si può andare da comune all'altro, sarà, speriamo, in tutta Europa, perché è ovvio che se c'è un paese infetto in Europa immediatamente vuoi infettare gli altri, come già è venuto. Sicuramente sarà così? Ecco qua. Leggiamo insieme. In Spagna, nei giorni clou, il divieto di circolazione sarà limitato tra l'1.30 e le 6 di mattina. La Francia riapre i cinema. Ecco, quindi, l'unico, vero, totale lockdown durante le feste di Natale sarà in Italia con non tanto gente depressa, gente dispiaciuta, anziani lasciati, che è un disastro socio-psicologico totale, ma è un paese disfatto economicamente, distrutto economicamente. Voi pensate tutto quello che c'è attorno alle feste di Natale. Immaginate quanto vale di pil di un paese tutto distrutto. Allora, ci poniamo una domanda? Poniamoci questa domanda. Ma perché? Perché un governo, i politici che lo gestiscono, stanno quasi scientemente con una serie di norme astruse distruggendo un paese. Qual è il motivo? Perché poi loro vivono all'interno del nostro paese. Qual è? Cosa ci può essere dietro? Ci deve essere forse qualcosa? Perché non sono pazzi, sono persone probabilmente anche colte, anche con una certa visione. perché guardate, lo vediamo da alcuni titoli di giornali e adesso li andiamo ad analizzarli. Guardate. il colle minacce dissidenti grillini se bocciate il MES si va verso le elezioni. Ecco. Ecco il motivo. Ecco il motivo. Un paese distrutto economicamente, guardate, è semplice, l'Italia viene distrutta quotidianamente economicamente sui valori essenziali, su chi produce, sulle imprese. E' quello il valore. Il valore di un paese certo non è dato dal numero dei dipendenti pubblici, è dato dalla produttività. Si distrugge la produttività, si distrugge un paese. Perché si sta distruggendo un paese? Perché l'Italia, per questa logica europea, la stessa logica europea, guardate, basta studiarla la storia. C'è stato, ad un certo punto della nostra vita, la logica, la lobby dell'Europa, la logica dell'Europa lobbistica sfruttatrice, ha cristallizzato, ha polipato la Grecia e l'ha completamente rasa al suolo. Ve lo ricordate? Ecco che quindi l'Italia va distrutta economicamente, per cui l'Italia dovrà per forza di cose entrare con tutte le scarpe dentro il mess, non potrà fare, e a quel punto il mess che cos'è? E' un megaprestito, un megaprestito per il quale dopo la non restituzione scatta il commissariamento con una troica da parte della Commissione europea. E quindi a quel punto la gestione economica del paese non spetta più al suo Parlamento, al suo Ministero, ma spetta all'Europa. Ecco, è semplice perché si vuole distruggere l'Italia. E come vedete, questo messaggio, voi vedete, sapete che questi giorni ci sono un gruppo di grillini che ancora hanno un minimo di Parlamento dei Grillini, al minimo di volontà di forza vocale, minima, perché ormai c'è un totale azzeramento che stanno dicendo noi voteremo contro il MES? Parlamentari. Parlamentari votati democraticamente dai cittadini e stanno dicendo un qualche cosa che sentono dal punto di vista emotivo, sociale, culturale, politico, perché sono stati eletti direttamente. E cosa avviene in questo caso? Secondo quello che dicono i giornali, non lo diciamo noi, le leggiamo il titolo, avviene che questi personaggi parlamentari che stanno esprimendo i propri dubbi e il proprio dissenso in virtù del mandato che gli hanno dato i cittadini democraticamente vengono minacciati. Lo dice il giornale, non lo diciamo noi, rileggiamo. Con le minacce ai dissidenti grillini se bocciate il MES si va tutti alle elezioni. Ma è una cosa normale questa, secondo voi? Ma è una cosa di una gravità pazzesca. Rendetevi conto che una cosa del genere significa che c'è qualche cosa che va di sopra delle nostre volontà, delle volontà di un paese. Quindi c'è per forza una lobby finanziaria esterna, come spesso stiamo denunciando, pochi ci ascoltano, ma meglio essere in pochi ma essere ancora sani e saggi con la propria mente. Cosa? Vedete, vi voglio vi voglio fare e vedere una prima pagina della verità che con cinque titoli, sottotitoli, dà una visione globale della verità di quello che sta accadendo. Alla fine di questo piccolo piccolo intervento vi voglio dire insomma resistete c'è una notizia pazzesca giudiziaria che vi devo dare attendete cinque minuti e la leggeremo insieme. Allora intanto guardate mentono su tutto truccato persino il numero dei morti pur di imporci discutibili obblighi. Il premier Ducetto evoca il TSO però la costituzione glielo impedisce. Spacciano il vaccino come soluzione ma non sanno neanche come funziona Mattarella minaccia i grillini. Eccolo qui guardate che bel titolo fa questo giornale con cinque sottotitoli che danno una visione fotografata di quello che sta accadendo. Scusate in questo momento noi chi dobbiamo aiutare? le partite iva le aziende le imprese dobbiamo dare tutto il massimo sostegno e ricordatevi in questi giorni invece di andare a comprare su Amazon su eBay invece di andare negli piedi mercati aiutiamo i nostri negozi negozietti artigiani i piccoli imprenditori andiamo ad acquistare da loro facciamo un sacrificio in più ma è la nostra esistenza che ci deve dare il coraggio di essere uniti in questo momento e in questo momento in cui è l'impresa e le partite che devono essere sorrette perché danno posti di lavoro il governo propone l'aumento agli statali no guardate questo eccolo il piano del governo aumenti agli statali ma vi sembra normale o fa parte di questo disegno di cui stiamo parlando e adesso sono onorato sono anzi immensamente onorato nel dispiacere nel dispiacere nel nel cuore che piange perché abbiamo perso un altro amico un uomo buono un padre un nonno abbiamo perso da due giorni speriamo che la sua morte non sia stata vana abbiamo avuto mandato da parte della famiglia di fare richieste alla procura di Roma ieri come vi avevo già fatto vedere venerdì come vi avevo già fatto vedere abbiamo fatto venerdì pomeriggio una abbiamo presentato una querela ai carabinieri con richiesta venerdì pomeriggio con una richiesta di sequestro della sarma e autopsia per verificare il reato di omicidio colposo da parte di un ospedale ecco siamo abbiamo ottenuto da parte della procura della repubblica in 24 ore non ve lo posso far vedere che ovviamente è un documento ancora riservato e qui davanti a me avviso di accertamenti ve lo sto leggendo tecnici irripetibili il pubblico il ministero ha aperto un fascicolo per reato 589 codice penale omicidio e decreta di procedere ad accertamento medico legale della sarma il conferimento al consulente della procura avverrà il giorno 9-12 quindi dopo domani il sottoscritto con i propri consulenti tecnici saranno presenti in procura per l'apertura del fascicolo e per avere la data e di quesiti che il procuratore della repubblica disporrà su questa sarma per la dopsiare questa sarma ebbene ecco vi voglio dare vi ho voluto dare questa notizia importantissima perché se ad oggi fossero state fatte le autopsie ai nostri morti fratelli morti avremmo avuto oggi la possibilità di evitare forse centinaia di morti e avremmo avuto forse la possibilità di modificare quell'elenchetto che tutte le serie ci fanno vedere in televisione morti 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 e non sappiamo mai neanche se sono i numeri giusti perché ricordiamoci che in molti ecco in molti in molti dicono questo truccato persino il numero dei morti ecco allora allora non vorremmo come dicono alcuni giornali che non vorremmo che ci sia ancora che ci sia ancora un qualche cosa che imponga un qualche cosa che imponga ai medici a qualche medico di conteggiare tra i morti Covid morti non Covid ovvero di raddoppiare le morti abbiamo visto il caso della Campania i cui numeri di un giorno erano invece numeri di tre o quattro giorni ebbene questo deve finire ringraziamo la procura della Repubblica di Roma che ha aperto queste indagini e consentirà a dei periti del Tribunale ma anche di parte a nostri periti vi diremo chi saranno i nostri due periti che parteciperanno a queste autopsie di stabilire una volta per tutte la verità vedete amici queste sono le piccole piccolissime microscopiche vittorie che è un popolo che è un intero popolo sta cercando tutti i giorni all'interno delle istituzioni civilmente e queste sono le piccole vittorie che ci consentono di credere di credere ad un nostro futuro all'interno di un percorso di legittimità ecco questo ci conduce a dire a noi stessi continuiamo continuiamo non molliamo neanche un attimo non daremo tregua a nessuno finché non verrà ristabilita la verità la verità ci vediamo domani sera vi spiegheremo almeno una parte delle nuove norme di PCM decreto legge non esiste solo un di PCM ma esiste anche un decreto legge ecco è molto più complesso del solito ci sono 300 maggio di allegati ma ve li spiegheremo come al solito molto molto meticolosamente vi abbraccio buona domenica a tutti